Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video e tanti auguri, buon 2024, buon anno a tutti, buon anno cripto, buon anno di bitcoin, buon anno in cui le criptovalute nel 2024 dovranno dimostrare i muscoli cosiddetti ragazzi e soprattutto ne vedremo delle belle anche per quanto riguarda questo 2024, ma quali sono i cinque eventi più importanti da tenere sotto la lente di ingrandimento proprio nel 2024? A cosa dobbiamo prestare attenzione? Dal primo imminente, quasi diciamo scontato, che sta arrivando, il primo evento più importante, a quello di metà periodo, potremmo dire lo spring evento, cioè quello primaverile, a quelli che verranno dopo ragazzi. 5 eventi più importanti da tenere sott'occhio nel 2024. Iniziamo con quello che è l'evento primeggiante ragazzi, cioè quello che riguarda questo periodo qui, cioè l'evento della approvazione, sì o no, dell'ETF di bitcoin che dovrebbe essere verso una data particolare, cioè in circa intorno al 10 o prima o al 10 di gennaio. Io metto qui quello che è la divisione, diciamo la linea legata alla questione del temporale e vi faccio vedere dov'è il 10 gennaio. E perché siamo veramente molto vicini, cioè manca pochissimo tempo. Questo è un grafico settimanale, vi metto anche quello giornaliero così da avere addirittura proprio la precisione. Ed è mercoledì ragazzi, mercoledì non questo, ma il prossimo, l'evento legato all'ETF di bitcoin. Approvazione sì, approvazione no. Molti credono che la SEC decida di approvare l'ETF un po' prima della scadenza del 10, quindi qualche giorno prima, quindi teoricamente in questa settimana dovrà dare risposta. Lo fa, non lo fa, da domani in poi. Occhi puntati su questo evento. Il primo grande evento dell'anno 2024 per bitcoin è l'approvazione, sì o no, dell'ETF spot. Ci sono diversi tipi di idee legate a questa questione dell'ETF spot, cioè il fatto, per esempio, che bitcoin non riesca a fare nuovi massimi, che questa fase in pratica vada ad essere una fase che poi termina con la questione dell'ETF, con un nulla di fatto, addirittura un sell on news. Questa cosa è possibile, l'ho spiegata nel video precedente, perché l'ETF di bitcoin nello short term non crea una modifica strutturale in pochissimo tempo al re delle cripto, ragazzi. Ma quello che doveva fare short term lo ha già fatto, cioè l'aspettativa dell'approvazione dell'ETF che è già entrata all'interno dei prezzi di bitcoin, con questa fase iper rialzista, che ha riguardato dal momento dell'approvazione dell'ETF di bitcoin, che era a giugno, quindi della, scusate, della richiesta dell'ETF di bitcoin da parte di BlackRock, che era a questo punto qui. Questa fase è tutta l'hype legata alla presentazione dell'ETF e alla presunta approvazione dell'ETF che dovrebbe essere approvato, e parliamo di un più 59, più 60% di oscillazione. Questa fase è l'effetto ETF short term su bitcoin. Per quanto riguarda l'approvazione, quindi può essere che nell'immediato, se dovesse essere approvato l'ETF, ci sarà un pump perché c'è la news, ma poi il mercato farà questo, ragazzi. Se il pump non verrà retto, cioè quindi non sarà importante e non sarà sostenuto per un qualche minuto, si creerà l'effetto sello news, quindi il panico generalizzato che avviene praticamente sempre, ragazzi. Guardate anche la questione legata, per esempio, alla domanda di BlackRock. Qui BlackRock presenta domanda dell'ETF, subito candeloni giornalieri, qualche giorno così, e poi laterale discendente, nulla di fatto. Guardate come la notizia in pratica è stata totalmente riassorbita dal mercato nell'arco di un qualche mese, per poi ritornare invece a quello che era l'effetto, cioè quando si è ricomposto un po' la questione. Questo è quello che vi sto dicendo, potremmo assistere quindi a una cosa molto similare, qualora dovesse essere approvato, e vi ripeto, questo è il giorno della scadenza dell'approvazione dell'ETF, quindi è veramente molto vicino, potremmo assistere magari a un boom 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 così, e dopodiché un laterale e poi un nulla di fatto con un famoso sello on news classico, che avviene magari in queste situazioni. Ma nel long periodo la questione cambierebbe. Quindi primo evento importantissimo, halving di bitcoin, occhi puntati, nelle prossime settimane ne vedremo delle belle, soprattutto domani ragazzi, c'è una super news incredibile, quindi tutte le analisi per quanto riguarda i livelli dell'anno 2024, come abbiamo fatto l'anno scorso, cosa attenderci nell'anno 2024, la fase ciclica dell'anno 2024, l'analisi tecnica dell'anno 2024, tutto nel video di domani insieme a una super news che riguarda Trading On, e che lancia un nuovo approccio, un nuovo, diciamo, design per tutto quello che riguarda i nostri progetti ragazzi, ed è bellissimo, io già l'ho visto ovviamente, domani verrà presentato a tutti i ragazzi, e vi piacerà tantissimo, quindi immancabili video di domani, mi raccomando ragazzi. Ok, allora, secondo evento, l'evento top dell'anno 2024 che tutti attendono, l'evento halving, che avverrà in questo momento come data stimata il 17 aprile del 2024, quindi super giù arriverà ad aprile, nella primavera del 2024, l'evento halving di bitcoin, cioè l'evento che riduce la reward che riguardano i blocchi che i miners vanno a ottenere quando completano e scrivono i codici della blockchain, eccetera, all'interno di questi blocchi ci sono i reward di bitcoin, si dimezzerà ulteriormente, e quindi l'effetto inflattivo di bitcoin si ridurrà, la scarsità di bitcoin aumenterà ancora di più. Quello che è il processo classico di bitcoin, che tutti abbiamo imparato ad amare in questi anni, riavverrà l'effetto halving. Effetto halving per gli investitori è sintomo, in pratica, di quello che potrebbe essere una fase di bull run, l'ultimo che era avvenuto, diciamo, in questa zona, pre-fase di halving, cioè adesso non mi ricordo precisamente dove, aspettate che vi metto la data. Eccolo qui ragazzi, allora vi ho preso il giorno preciso, era appunto più o meno in questa zona qui, cioè maggio 2020, l'ultimo evento halving, che poi ha scatenato teoricamente una fase di trading range, poi un'app e poi la classica bull run del mercato delle criptovalute. Allora tutti gli investitori dall'evento halving si aspettano questo. Ora, quando sarà questo evento halving? Andiamola a vedere sui grafici nuovi, andiamoci a posizionare il nostro timing e dovrebbe essere intorno appunto a questa zona qui, quindi teoricamente potremmo avere appunto una fase di trading range barra una fase del genere in questo periodo, poi dopodiché l'evento halving, che sto disegnando a caso ragazzi, non mi prendete la cosa, l'evento halving e teoricamente dopo l'ultimo halving, che per esempio abbiamo assistito, vi faccio vedere a circa livello temporale, una fase di trading range di 70 giorni, dopodiché il breakout dei massimi che erano stati creati e il pullback dei massimi da manuale, ancora una volta, analisi tecnica non funziona, da manuale ragazzi, da manuale, breakout dei massimi, pullback, bull run, cioè proprio una telefonata, facilissimo in questo caso, questo tipo di mercato, perché è anche un po' inefficiente, non funziona così sui mercati classici, cioè sarebbe troppo bello per essere vero, ma noi siamo sui mercati di crypto e ci piace così, quindi dopo questo evento, in pratica dopo circa 120 giorni, si è innescata la bull run, se dovessimo andare a creare la stessa cosa, in questo caso da aprile più o meno circa 70 barra 120 giorni, si potrebbe innescare la nuova fase di bull run, quindi in pratica potremmo avere questa fase di tracciamento hype iniziale per l'albing e per l'ETF, poi una fase di trading range, dopodiché si innesca diciamo una fase di bull run di bitcoin, quindi questo è quello che pensano gli invisitori, in ogni caso l'evento albing è un evento importantissimo, quest'anno sarà diverso, nessuno lo sa, ovviamente bisognerà vedere, dobbiamo capire dove ci troviamo in quel momento, anche a livello grafico, che cosa è successo con l'approvazione dell'ETF, e dopo tarremo le conclusioni per quanto riguarda l'evento albing. Terzo evento dell'anno 2024, che bisogna tenere sotto stretta osservazione, è i cambiamenti tecnologici che riguardano Ethereum e gli smart contract. Ethereum, lo sconfitto dell'anno 2023, che è rimasto al palo rispetto alle criptovalute, e anche rispetto a bitcoin, senza ombra di dubbio la cripto che partiva in pole position, e che non ha un po' di luso, diciamo moltissimi investitori, da un punto di vista tecnico ci sono diverse innovazioni, che anche Vitalik ha indicato, che cercheranno di migliorare il proof of stake di Ethereum, nell'anno 2024 dovrebbero essere implementate, e migliorare in maniera importante anche la tecnologia che riguarda la regina delle cripto. Riuscirà quindi Ethereum a diventare di nuovo competitivo, sia con bitcoin, che con gli altri layer, eccetera, sicuramente ci riuscirà, però penso io. Ma poi c'è un'altra questione, cioè la concatenazione dell'ETF approval di bitcoin, con Ethereum. Dall'approvazione di un eventuale ETF di bitcoin, il beneficiario principale potrebbe essere proprio Ethereum. Perché Ethereum ragazzi? Perché sostanzialmente l'attenzione poi degli investitori si potrebbe spostare dall'ETF di bitcoin, approvato, a un'eventuale approvazione dell'ETF di Ethereum, e quindi lanciare l'hype emotivo, speculativo, proprio sulla regina delle cripto, che a quel punto dall'evento ETF di bitcoin, trarrebbe più vantaggio, dopo la prima ovviamente fase su bitcoin stesso, trarrebbe più vantaggio che addirittura bitcoin. Questo è un'idea che secondo me non è da sottovalutare ragazzi, qui è l'evento 10 di gennaio, eventuale fase di approvazione dell'ETF di bitcoin, e da qui potremmo anche assistere ad una fase di hype, perché lo spostamento però di approvazione, il secondo ETF che potrebbe essere approvati, saranno quelli su Ethereum ragazzi. Questo è concettualmente discorso, quindi non mangiate, diciamo, ho capito pesante perché dovremmo avere gli occhi puntati anche su ETH, proprio nell'anno 2024, quindi terzo evento importantissimo. Quarto evento, poi c'è il quinto che è di politica monetaria, eh ragazzi? Quarto evento, la alt season, sì o no? Abbiamo visto la mini alt season dei mercati, cripto come da attese, ne avevamo parlato già a novembre, che verso, anzi a ottobre, che verso novembre e dicembre sarebbe arrivata una mini alt season, un'anticipazione dovuta proprio a questa fase, cioè il breakout di questa barra di concessione dei mercati, cioè questo grafico ragazzi è una indicazione di quello che era il mercato, non è che è per il grafico che il mercato si è emozionato, lo vediamo sul grafico perché il grafico lo rappresenta, è come uno schermo che vi dà un film, ma il film è avvenuto sui mercati delle cripto ovviamente, quindi qui semplicemente andiamo a vedere una immagine, no? Di quello che sta succedendo e abbiamo una visione generalizzata, racchiusa diciamo in un unico grafico, ma non è che il mercato è salito perché il grafico è salito, è il contrario, eh ragazzi? Non vi confondete con i prosecchi, diciamo le spevazzate del Capodanno. Allora, in questo caso però la rappresentazione era molto evidente, qui stava avvenendo un'accumulazione per quanto riguarda il mercato delle altcoin, e poi il breakout, attenzione perché un eventuale anche pullback di questa fase, dovrebbe essere il buy the dip, soul alt season, se lo fa, tra le altre cose, quindi molta attenzione potrebbe avvenire in concomitanza questa fase con l'albing di Bitcoin, già ve lo dico, quindi teoricamente attesa dopo l'approval eventuale sì o no di dell'ETF di Bitcoin, una fase di congestione, ma ne parliamo domani di queste cose, ragazzi, comunque c'è tempo sul canale, perciò mi raccomando iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, lasciatemi anche i pollicioni per questo video da primo anno, da primo dell'anno e primo video del 2024, e comunque molta attenzione alla season, che secondo me quest'anno sarà molto importante, e per chi vuole fare numeri importanti, secondo me bisogna utilizzare più crypto che Bitcoin, perché da un punto di vista tecnico Bitcoin ha già dato tantissimo, ma vedremo poi cosa succederà dall'approvazione dell'ETF o meno, secondo me le altcoin avranno un anno importante nell'anno 2024, non tutte, ma quelle principali sì. Quinto e ultimo evento di cui parliamo oggi, dell'anno 2024, politica restrittiva a casa da parte della Federal Reserve, e inizio del taglio dei tassi, quando addirittura per una concomitanza di cause, durante il periodo dell'hulling di Bitcoin, cioè da aprile, maggio in poi, il cut del tassi di interesse, che consiste in una emissione di liquidità nel mercato, e abbiamo visto già che i Bitcoin e i mercati crypto sono legati moltissimo alle emissioni di liquidità, è anche corretto, perché i mercati crypto sono mercati a basso contenuto di liquidità, rispetto ai mercati classici, quindi l'emissione di liquidità generalizzata ha un impatto molto più importante sui mercati dell'egritto, perché sono piccolini, ragazzi, è un'emissione di liquidità, quindi spinge in maniera percentuale maggiore, rispetto agli altri mercati. Quindi i tassi della Federal Reserve che dovrebbero iniziare a diminuire nei mesi successivi potrebbero essere, potrebbe essere, diciamo, interessante. Ancora vedete, verso gennaio saranno mantenuti uguali, a marzo abbiamo una probabilità di una riduzione che è pari al 73%, la probabilità a maggio c'è molta confusione, perché in pratica i tassi ritornerebbero, vedete, quasi normali, cioè sembra strano in pratica, perché qui è previsto un cut dei tassi, però da maggio in poi c'è molta ambiguità, vedete che è molto distribuita, addirittura c'è una percentuale che dice che i tassi saliranno, rispetto a quelli di oggi, mentre per giugno c'è proprio una percentuale estremamente ribassata, quindi diciamo maggio lo prendiamo tanto e non quanto, quello che conterebbe sarebbe questa zona qui, vedete come teoricamente si bilancia proprio rispetto a marzo, quindi tassi attesi tra il 4,25 e il 5, se io prendo i limiti massimi, ora sono 5,25 e 5,50, quindi sostanzialmente un tasso che discende del 50, dello 0,5. Allora questa cosa qui è importante perché significherebbe fiato anche per i mercati cripto e soprattutto un ulteriore boost. E il quinto evento a cui dobbiamo prestare attenzione avverrà a giugno, maggio, giugno, diciamo la fase più acuta del 2024. Questi eventi sono tutti quanti eventi impattanti in forma di pump, ragazzi. Ecco perché il 2024 è un anno che teoricamente potrebbe essere molto bullish, perché non esistono ad oggi, che non ci sono diciamo le condizioni di sapere tutte le informazioni che riguarderanno il 2024, se avviene un cigno nero, noi non lo sappiamo, ad oggi non esistono dati che portano un dato negativo sui mercati finanziari e le criptovalute. Quindi l'anno 2024 può essere un anno veramente bullish per i mercati se non avviene niente di disastroso, diciamo così. Però ovviamente, come sempre, avete imparato a capire queste cose, non sono così finanziari chiaramente, bisogna avere l'occhio puntato sui mercati perché dietro l'angolo c'è lo scherzetto che sta arrivando. Cosa ne pensate di questi 5 eventi? Me ne sono perso qualcuno? Scrivetemelo nei commenti. Buon anno 2024 a tutti. Tornate a festeggiare e noi ci rivediamo domani nel super video di analisi e nel super video di presentazione di tutto quello che è il nuovo progetto Trading On. A domani, ciao a tutti!